ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di minecraft e io oggi sono super contento perché io nel mio mondo con la lunga rotaia l'ho anche modificata ho portato qua due bei villagerini ecco uno qua e questi qua ragazzi se avete uno senza lavoro mettete in un leggio ragazzi vi venderà delle cose a un prezzo non eccessivo perché questo costava 10 smeraldi è un libro però cosa mi ha venduto silk touch ragazzi io sono super contento poi un altro mi ha venduto pure un sacco di name tag che io li darò a questi bei due belli nitti allora lui è abbastanza carino perché vende questo però lui vende scusi signore silk touch al prezzo di 9 smeraldi ma le posso comprare quanti voglio di silk touch però al momento ragazzi ho finito un sacco di smeraldi sono immagini si capisco il libro è davvero utile silk touch mamma mia se utile bene ragazzi io direi di mettere questo bel silk touch ragazzi cioè proprio voi siete i villager più belli del mondo allora questo silk touch io direi di metterlo un bel piccozzo lo mettiamo insieme al nostro piccone vecchio che non so più dov'è e ragazzi ci faremo un piccone nuovo con silk touch allora per chi non lo sa silk touch posso prendere il brocco d'erba come vedete se lo spacco senza silk touch mi dà un pezzo di fango se lo prendo con silk touch mi dà pure l'erba posso prendere la stone senza che mi dia i ciotoli la cobblestone capite aia un attimo scusate sto facendo un video se voi rompete così è un grosso guaio per entrambi finendo scigeno signore cos'era me l'ha droppato spero di no perché non voglio di raccoglierlo comunque lo mettiamo al piccone tanto io ho modificato la mia casa allora qua ho messo i golem di neve qua c'è la farm di neve che ve la mostro in un altro video e poi ho fatto un piano di sopra la tv niente di speciale allora è tempo di fare allora direi di andare un attimo nel mio bunker segreto ok che mi sa che ho costruito davvero bello mi ci prendo un blocchetti eh sì 28 blocchi certo 3 mamma mia un blocco quanto casino per un blocco c'è tutto questo casino per un blocco di diamante tutto questo casino vabbè non so dove siamo allora direi di prendermi abbiamo nove diamanti ci facciamo un bel piccone allora direi che in questa chest avrò un po di legno a volontà se ne abbiamo e ci facciamo un bastoncino a sì poi ci facciamo eccolo eccolo qui un piccone in diamante perfetto allora qua c'è la nostra envil quasi distrutta costo ne ho quattro ne ho 22 quindi è a posto piccone con silk touch io direi lo nomino e lo nomino prendo prendi tutto perché prende di tutto questo piccone tra nella cobblestone cinque ah sì prendi tutto ora ragazzi devo fare un'altra cosa che costerà parecchi livelli però vabbè dai per cose belle che cosa non si fa ecco dovremmo sostituirlo con questo piccone così così costo 10 mamma mia mamma mia questo piccone lo amo e raga un attimo andiamo a dormire e vi mostro la come funziona andiamo a dormire ho avuto l'insonnia o sbaglio non lo so e ora vediamo come si utilizza questo piccone allora lo testerei qua prendiamo funziona alla grande noi con questo piccone potremmo prendere il blocco terba cioè ragazzi è una cosa meravigliosa e voi direte a scusa se tua è la tua prima volta che ho messo il touch perché hai così tanti blocchi d'erba di adesso chiedetelo agli enderman non a me agli enderman arrivavano loro con i blocchettini io li facevo fuori e prendevo quindi ne ho presi di più con gli enderman che col piccone vabbè bene ragazzi io direi che possa anche finire qua perché davvero ragazzi non la finiamo adesso un attimo vi voglio mostrare come potrebbe funzionare un attimo mangiamo ok primo colpo andiamo sott'acqua non voglio drone cos'è quello un lingotto di coppa grazie grazie mille allora come funziona allora ci sono i due villager che sono despunati no non sono morti allora bisogna solo prendere due di questi tu non cambiami bisogna solo prendermi due di questi ok senza lavoro quello potrete mettere una gabbia io ad esempio fatto un bel così un delle qua in caso la notte gli scheletri di colpisca e ho messo con cartello con scritto shop che nessuno lo noterà mai nella vita dell'uomo però comunque dovete rinchiuderli mettere un leggio un leggio sono questi qua che si fa tanto una biblioteca e delle lastre lo mettete accanto al villager e voi dovreste ai fox aspettare qualche attimo che io ho aspettato qualche attimo ed è diventato un libraio alcune volte a prezzi di una stack di smeraldi qualche cosina però io come questo come slick touch nove smeraldi e ti danno dei libri davvero 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 utili quindi io non so che dire ma sono davvero super contento io ho detto ma io mi butto via la tavola degli incantesimi tutto questo tempo tutta questa fatica per due diamanti quando bastavano solo nove smeraldi e del ferro per fare una rotaia c'è in realtà ho fatto questa grazie a dio che ho fatto questa rotaia enorme che lì c'è in fondo un villa e si qua li ho rinchiusi perché non avevo più rotaie poi me ne sono farmate altre ho fatto una rotaia adesso poi le torce redstone io toglio questo sgorbio va bene ragazzi io direi perché che per questo video è tutto e noi ci vedremo in un altro video e ricordatevi di iscrivervi se non volete diventare anche un villager chiuso in gambia anche voi ciao